Dopo lo shopping natalizio è tempo di occasioni. Sabato 5 gennaio partono in tutta la provincia i saldi invernali. Una 45 giorni di shopping ha prezzi ribassati fino al 50%, che proseguirà fino a lunedì 18 febbraio. Durante il periodo degli sconti i commercianti dovranno esporre i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione, i prezzi che si intendono praticare durante la vendita e il ribasso espresso in percentuale. Su ogni prodotto, inoltre, dovranno indicare in modo chiaro e ben leggibile il costo di vendita al pubblico. Oltre a questo, dovrà essere evidente la separazione delle merci in saldo da quelle vendute alle condizioni ordinarie. Tre giorni prima dell'inizio dei saldi, infine, gli esercenti sono tenuti a esporre un cartello ben visibile che annunci l'effettuazione delle svendite. Si tratta di accorgimenti a tutela dei consumatori. Ogni anno, durante lo shopping a prezzi vantaggiosi, le truffe sono all'ordine del giorno, con merce in saldo che in realtà non è stata ribassata. Gli agenti della Polizia Municipale, così come la Guardia di Finanza, si preparano ad effettuare controlli, già in questi giorni, per verificare i cartellini degli articoli esposti in vetrina.